Loro erano i Kings on convenience in diretta su RBA Radio, RBA TV in Piemonte e in Liguria potete ascoltarci dalla vostra radio, dalla vostra televisione, anche sul web ovunque voi siate su rba.it dove in questo momento vi stiamo salutando vi sto salutando da Pinerolo per Artigianato Pinerolo le nostre dirette come radio e tv di piazza che riprendono quest'anno per questa 47esima edizione e come sempre siamo molto curiosi, persone curiose che si avvicinano ai tanti progetti le tante idee che arricchiscono Artigianato Pinerolo anche quest'anno abbiamo parlato di formazione, abbiamo parlato di nuove strade legate alle professioni, al plurale alla solidarietà, a progetti che danno una nuova strada a coloro che sono già occupati con un lavoro ma che non vogliono accontentarsi adesso andiamo a parlare di una nuova faccia, un'altra faccia dell'artigianato cioè la creatività e come l'artigianato e la creatività possono aiutare ad esempio le persone che cura il CIS di Pinerolo abbiamo con noi Nives Danieli, ciao Nives, buongiorno ciao, buongiorno a tutti ben arrivata su RBA qui all'artigianato Pinerolo innanzitutto il CIS, doppia S finale, che cos'è? allora il CIS in realtà è un acronimo che significa Consorzio Intercomunale e Servizi Sociali nel senso che i comuni che afferiscono al territorio del Pinerolese che vanno da Bobbiopellice fino a Cumiana e tutto il territorio di Pinerolo eccetera si sono consorziati per la gestione dei servizi sociali all'interno dei servizi sociali il CIS si occupa di varie fasce minori, adulti in difficoltà, disabilità e quant'altro quindi diciamo che si occupa a vario raggio di persone che a diverso titolo hanno bisogno di essere accompagnati in un percorso di crescita di solidarietà, di aiuto, di assistenza anche io vi ho scoperto, insomma vi conosco perché come RBA, come Radio Bequita abbiamo più volte avuto modo di incrociare insomma le nostre strade ma anche qui a Pinerolo, qui all'artigianato ho visto il vostro stand in Piazza San Donato e ho visto anche tanti ragazzi, tanti ragazzi insieme agli operatori insomma le persone che lavorano per il CIS e soprattutto oggetti che ho chiesto insomma a chi era lì presente mi hanno detto che sono stati realizzati dalle persone che voi assistete e qui con me giustamente Nive, se hai avuto il piacere e la cortesia di portare alcune di queste creazioni come vengono realizzate, nell'ambito di quale progetto in particolare? Allora, il CIS di Pinerolo si praticamente gestisce due centri diurni uno in Val Pellice, denominato Ciao, Centro Integrato Attività Opportunità uno qui a Pinerolo, GEA e un altro che è a gestione, diciamo, la gestione è delegata ad una cooperativa la cooperativa La Testarda di Vigone all'interno di questi servizi che ospitano persone disabili con disabilità varia che vanno dai 18 ai 64 anni 64-65 anni vengono svolti, il servizio è aperto dalle 8.30 alle 16 vengono svolti diverse attività chi viene in questi centri diurni servizi diurni territoriali, come mi piace chiamarli più che centri vengono persone che hanno finito il percorso scolastico per cui non è per le loro caratteristiche altri tipi di percorsi non sono percorribili scusate il gioco di parole, per cui vengono al centro diurno dove in una situazione più protetta possono sperimentarsi anche i laboratori che hanno le caratteristiche che si avvicinano anche a quelle che sono il mondo del lavoro tra cui i laboratori di ceramica, i laboratori di falegnameria in passato ci sono stati anche dei laboratori di cucito insomma la creatività spazia poi chiaramente i laboratori possono anche cambiare in base alle persone che ci sono e al loro piacere, ai loro interessi quindi il laboratorio di ceramica potrebbe a un certo punto trasformarsi in qualcos'altro anche se mi auguro di no visto che comunque all'interno dei servizi si sono attrezzati il CIS ha messo a disposizione il materiale quindi il forno, le terre, i colori eccetera e la formazione degli operatori questa formazione, ci tengo a dirlo viene anche rivolta alle persone che frequentano e che partecipano a questi laboratori i laboratori sono aperti nel senso che vengono anche organizzati dei momenti con la popolazione quindi o con le scuole materne durante l'estate, all'aperto, nei parchi oppure proprio come percorso un po' didattico dove le persone che hanno acquisito delle competenze all'interno del servizio di urno territoriale vanno a scuola e trasmettono queste competenze ai bambini accompagnati chiaramente dagli operatori dei servizi bello insomma quindi il ruolo dell'artigianato l'artigianato come mezzo per esprimersi per mezzo di espressione, di creatività ma anche di lavoro perché dà la possibilità a queste persone di realizzarsi attraverso il saper fare attraverso le attività manuali posso mostrare almeno uno di questi manufatti? questo ad esempio oltretutto poi ci sono gli operatori insieme ai ragazzi noi li chiamiamo ragazzi alcuni di loro sono miei coetanei si ingegnano per creare delle cose anche innovative ad esempio quella tazzina che tu hai in mano è una tazzina da tisana o da tè dove c'è un taglio per cui siamo sempre in difficoltà a tenere il maledetto cordino che cade dentro e si mette lì questo è design praticamente abbiamo fatto un oggetto di design sai cosa mi piace soprattutto? che non c'è la necessità e l'urgenza di realizzare oggetti come questa tazza che sia perfetta sotto il punto di vista magari mio o di un'altra persona perché l'importante è fare l'importante è che funzioni l'importante è fare e ha una sua dignità del bellissimo così non deve essere perfetto cosa vuol dire perfetto poi? dell'imperfetto il perfetto oh così questo mi piace è come l'elogio alla lentezza eccetera 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 quindi la nostra filosofia è il percorso che si fa insieme per realizzare l'oggetto il fatto di essere qui presenti all'artigianato per noi ha un significato di inclusione in un mondo che anche voglio dire dà di rimando alle persone che hanno realizzato questi prodotti questi oggetti un'immagine buona di sé e speriamo anche con questa nostra presenza di stimolare questa cultura della disabilità come risorsa non solo la disabilità come investimento di risorse quasi a fondo perduto mi viene da dire invece no io sono tanti anni che lavoro in questo campo e mi sono resa conto che la disabilità è una risorsa attraverso questi laboratori di ceramica attraverso altri progetti ad esempio con i progetti di montagna terapia abbiamo realizzato dei percorsi in Val Pellice con la segnaletica fatta insieme al CAI chiaramente con la segnaletica realizzata nei laboratori di ceramica il servizio di urno di Vigone ha appena realizzato in collaborazione con l'artista Garis il comune di Vigone non sono delle vere e proprie pietre di inciampo le chiamiamo i blocchi della memoria hanno fatto tutto un lavoro di ricerca su quello che sono stati deportati del territorio di Vigone insieme ai ragazzi che frequentano il servizio di urno e queste piastrelle si possono vedere in piazza davanti al comune di Vigone quindi un lavoro pratico concreto si può vedere si può toccare con mano come in questo momento sto toccando con mano un piattino a forma di gatto multiuso multiuso direi però è stato bravo o bravo insomma a realizzare un piattino anche questo è design è design puro perché è curvo il giusto per non far cadere gli oggetti può essere un posa cucchiaio un porta cose per il cocktail degli aperitivi le olive degli stuzzichini un porta sapone o quando avete non so le chiavi le monete non sapete dove metterle le mettete in un piattino come quello lo svuotatasche lo svuotatasche non mi veniva il termine insomma sono tanti gli oggetti che vengono realizzati in questi laboratori so che hai collaborato anche col CFQ con cui abbiamo parlato poco fa quindi l'artigianato per chiudere il nostro intervento Nives è una strada una strada che attraverso la creatività e attraverso anche la dignità del lavoro passami questo termine certo dà una possibilità a queste persone certo anche se non è e le rende meno meno invisibili citando le le rende di una visibilità che è la visibilità che ci auguriamo tutti noi esseri umani di avere di essere riconosciuti per quello che sono sulla base delle nostre capacità competenze e la nostra bellezza interiore bello bel pensiero ti ringrazio Nives Danieli con noi per il CSS ICIS che non è viaggiare informati esatto lo stavo dicendo lo stavo facendo una voce a speaker nel traffico invece no il CIS di Pinerolo del Pinerolese il consorzio dei servizi intercomunali i servizi sociali intercomunali io ringrazio anche insomma coloro che hanno permesso la chiacchierata che abbiamo trasmesso su RBE questo pomeriggio da Artigianato Pinerolo Nives io ti auguro di avere sempre lo stesso entusiasmo e la voglia di lavorare con queste persone che hanno tanto bisogno ma soprattutto sanno darci anche tanto ne sono davvero sicuro sono passato prima al vostro stand e ho avuto quella bella sensazione grazie davvero grazie grazie mille grazie a tutti